Siamo in una specie di città fantasma, qui non c'è anima viva. Qual è la definizione scientifica di fenomeno paranormale? Non esistono i fenomeni paranormali, però esistono le superstizioni. Non lo hanno solo ammazzato. Prima lo hanno torturato. Era il medico della città. Un giorno perse il controllo e cominciò a seviziare i suoi pazienti. E se vi dicessi che continuò a farlo anche dopo la sua morte? No! 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 No!